Vabbè, si può stare, il risultato si può stare. Ci siamo tornati con questo nuovo video con cui parliamo di Napoli-Atalanta, finita, ben gelo a zero, c'è il Napoli, ha giocato bene, eppure l'Atalanta sa, già ho spiegato delle occasioni, però, però raga, però troppi caccio di errori nella nostra difesa, un buco in difesa devastante, devastante, raga. Io comunque faccio i miei complimenti all'Atalanta e ai Napoli perché se hanno giocato fine all'ultimo questa andata, purtroppo, c'è, incredibile, zero a zero, ma come caccio si fa? E là, si segna, là, si segna. E vabbè, raga, e ora, testa concentrati al ritorno, e perché là, a Bergamo, non fare un culo così, un culo, concentrati, confido in voi. Ebbè, ragazzi, io, questo video, vi è piaciuto? Ovviamente, l'altro, mi univete, condividete, iscrivetevi al canale, e noi ci becchiamo, fra tre giorni c'è il sabato, con il post partita di Napoli, Genova-Napoli. Buonanotte a tutti, sempre con il vostro sabato, bella, vai, Buonanotte a tutti,